Benvenuti a tutti, ma lo dirà meglio di me chi ci ospita in questa struttura. Passo la parola a Ghefri Conuti. Grazie, non toglierò tempo alle preziose relazioni, volevo solo accogliervi qui al Gruppo AVELE, questo è il Gruppo AVELE, la sede centrale, e vi accogliamo per un motivo, perché il Gruppo AVELE ha sempre mostrato grande attenzione ai temi dell'ambiente. Una delle agenzie stampa del Gruppo AVELE si chiamava ASPE e aveva come sottotitolo Disagio, perché è uno dei temi centrali del Gruppo AVELE, Pace e Ambiente. Ha sempre dimostrato quindi il Gruppo AVELE sensibilità a questi temi e ha capito da tanto tempo che la cultura dello scarto, la cultura dell'emarginazione fa rima e si accoppia molto spesso con quella della degradazione dell'ambiente. Nel 2015 è uscito un testo particolare, un testo che ha ravvivato un dibattito, che è laudatosi di Papa Francesco, un testo per laici e un testo importante scritto da tanti scienziati. Dal 2015 con la laudatosi il Gruppo AVELE ha cercato di fare di più e impegnarsi di più. È nato così all'interno del Gruppo AVELE un gruppo che si chiama Casa Comune, tutto dedicato ai temi dell'ambiente. Casa Comune propone delle scuole di tre giorni per riflettere su tutti i temi ambientali. L'acqua è un tema che ci sta a cuore, all'acqua abbiamo già dedicato una scuola specifica di tre giorni alla quale abbiamo chiamato a partecipare anche il Comitato Acqua Pubblica con Mariangela Rosolena, ma è un tema che in tutte le occasioni delle nostre scuole torna e ritorna su tanti termini, dalla questione del cambiamento climatico, come è fatta sull'acqua, ma anche sulla questione delle migrazioni, come grandi opere idriche nel mondo provocano sempre di più spostamenti forzati di persone. Quindi l'acqua ci interessa, ci sta a cuore. Speriamo che questo momento di accoglienza, di questo coordinamento, di questa rete sia anche un momento per avere suggerimenti da voi per Casa Comune sul tema dell'acqua, perché so che sappiamo che ho fatto un grande lavoro, avere suggerimenti, avere modo di approfondire il tema dell'acqua anche a Casa Comune. Su Casa Comune spero che abbiate tutti la voglia di conoscerci attraverso il nostro sito, attraverso il nostro sito che si chiama www.casacomunelaudatoqui.org oppure scrivendoci a tutti i contatti che trovate in questa piccola brochure qui. Ci potete telefonare, restiamo in contatto, dateci suggerimenti a voi che siete più attenti al tema dell'acqua. Buon lavoro a tutti e buone relazioni, noi ci stiamo e conosciamoci pure. Beatrice, che fa parte precisamente del gruppo di Casa Comune, c'è Mirta, è un'altra coordinatrice che è lì e c'è Federica anche che sta là dietro, chiedeteci, informazioni, parlateci, conosciamoci, siamo qui, va bene? Grazie, buon lavoro.